Conferenza conclusiva di Festival Francescano, edizione dedicata al dialogo, la concludono un teologo e un matematico. Di cosa parlerete? Bella domanda, in effetti. Improvviseremo più che altro, anche in seguito alle domande che ci saranno rivolte, però grossomodo parleremo del rapporto fra scienza ed etica, che è un rapporto molto complesso, che oggi è particolarmente attuale, anche alla luce delle deliberazioni che si sono prese, che dovrebbe essere al centro delle riflessioni degli scienziati e dei tecnici. Io sono preoccupato più della tecnica che della scienza, mentre molti scienziati e molti tecnici non si pongono i problemi etici e questo è un grave difetto della ricerca. Risponde il teologo? Beh, diciamo che il tema è questo. Oggi viviamo in un'epoca in cui abbiamo una bulimia di mezzi e una grande anoressia di fini. E allora ecco che la tecnica rischia di non sapere più il perché perché si è sganciata dalla scienza e non sapere neanche il fine perché si è sganciata dall'etica. E allora alzare lo sguardo, dire che abbiamo bisogno di un perché di origine, di un perché di fine, è uno spazio dove lo scienziato e il teologo guardano insieme una realtà che ci provoca e che cercano insieme di riflettere appunto provocati dalla realtà. Perfetto, grazie mille e buon dialogo. Grazie. Grazie.